L'urna del UEFA ci ha regalato il Real Madrid L'urna del UEFA ci ha regalato il Real Madrid proprio due giorni fa, prima che l'urna del UEFA ci regalasse il Real Madrid ho avuto un lungo colloquio con la sindaca di Madrid tra l'altro abbiamo in comune il fatto che veniamo entrambi dalla magistratura due grandi capitali europee quindi ci confronteremo, come è giusto che sia, anche tra due grandi squadre di calcio e quindi sarà sicuramente un grande spettacolo e mi auguro anche uno spettacolo che possa unire le due città sotto il profilo della cultura e della voglia di costruire un'Europa più democratica, più popolare e in cui lo sport possa anche unire e non vedere più le immagini tristi che ancora certe volte avvolgono i campi sportivi grazie a tutti